Mi dimetto per proteggere il mio ruolo di mamma, per difendere la mia famiglia e i figli da una gogna mediatica feroce. Questo è uno dei passaggi della nota con la quale il consigliere regionale di Forza Italia Monica Paolino ha consegnato nel pomeriggio di ieri, ha comunicato nel pomeriggio di ieri la sua volontà di dimettersi dalla presidenza della Commissione Antica Morra, dopo essere stata coinvolta dalla procura in un'inchiesta su un presunto scambio di voto politico mafioso e per questo indagata insieme al marito il sindaco di Scafati Pasquale Aliberti su presunte irregolarità in appalti pubblici nel comune dell'agro sarnese Nocerino. La Paolino non ha voluto esprimere giudizi sull'inchiesta pur rammaricandosi per gli attacchi feroci e smodati subiti dalla sua famiglia. Al tempo stesso ha ringraziato il partito Forza Italia, i dirigenti e i cittadini che le hanno espresso solidarietà ed affetto restando serene e fiduciosa nell'operato della magistratura. Nonostante le dimissioni, la consigliera regionale si è detta assolutamente strane alle vicende per le quali è indagata, vicende di cui peraltro ha detto di non conoscere la specificità dei fatti, ma di aver deciso di lasciare la Commissione Antica Morra e beni confiscati del Consiglio regionale per il senso alto delle istituzioni e per la delicatezza del ruolo svolto dall'organismo affinché il lavoro avviato possa proseguire nella massima serenità. Intanto in alcune interviste rilasciate a quotidiani campani, il sindaco di Scafati a Liberti ha smentito di aver mai trattato con Camorrissi ne ha chiesto voti a Malavitosi e di non essere mai stato a casa di uno di loro. La polemica politica però prosegue. Dalle opposizioni sono state chieste le dimissioni del primo cittadino di Scafati mentre il coordinatore regionale di Forza Italia ha attaccato il governatore Di Luca che aveva chiesto, ottenendole, le dimissioni della Paolino, criticando i ritardi nel lasciare il comune di Salerno nei mesi scorsi. Critiche simili anche da parte del capogruppo di Caldoro Presidente al Consiglio regionale Carmine Mocerino per il quale per l'azione della magistratura ci vuole sempre grande rispetto e nessuno deve e può strumentalizzare tali vicende ritenendo un errore scatenare campagne giustizialiste.